Non facciamoci controllare dal mercato, che è invece, fra virgolette, uno dei problemi. Allora, il nuovo stato sociale, noi abbiamo una persona che sta facendo uno studio con i suoi studenti, quindi molto interessante, molto utile alla società, così come sono fondamentali per la società intera di algoritmi predittivi dell'epidemia che ci ha appena raccontato il professor Asetti. Il professor Derrick De Kerkhofe, che invito a prendere posto, sta studiando proprio il modello sociale, sta studiando il nuovo modello sociale e purtroppo lo sta studiando attraverso quello che è uno dei modelli sociali che si sta già realizzando, proprio in questo momento e proprio in questo pianeta, in un posto che si chiama Singapore. Ecco, lì stanno succedendo delle cose che potrebbero avere una strettissima relazione con la nostra vita e potrebbero essere uno dei futuri possibili. Però ce ne sono tanti altri e Derrick, confido, che ci parlerà anche di quegli altri possibili scenari. Però intanto parliamo con Derrick De Kerkhofe del modello Singapore. Esatto. Buongiorno. Troviamo la cosa giusta, mi penso che spero di quella. Mi sono molto colpito della conferenza precedente, assolutamente geniale. Come funziona? Abbiamo ancora il professore collegato, secondo me. No, no. Dobbiamo ricollegare. Ok. Evidentemente l'immagine che vi ho fatto vedere rifletta molto bene la conferenza precedente. Però non la faccio perché ci credo io. Infatti avevo chiesto da voi quanti pensate che è esagerato. La risposta era già data, in un certo modo. Si vede l'idea che nel futuro con i big data, i algoritmi e la robotica e tutta l'intelligenza artificiale che è possibile, siamo riduti a perdere i nostri lavori e a tornare a chiedere soldi ai roboti passanti. Esagerato evidentemente, ma come viene del 23 ottobre 2017 e che è la copertura di una rivista importantissima a New York, ma anche nel resto degli Stati Uniti e un po' più nel mondo, interessante rifletto della paura da che parlava il professore Rasetti e la sua presenza, particolarmente nei media, i media usano, parlo a giornalisti, i media usano della paura anche, non sono totalmente innocenti. Però è anche vero che circola adesso sempre più di questi problemi. Allora, però volevo far vedere un'esperienza di una città che adesso è sotto il controllo di la cosa che chiamo la datacrazia. Questo è Singapore, in 1975 ci sono stati più volte e questa volta ho fatto una di queste due fotografie e allora che è successo? E' successo che adesso nel 2004 è lo stesso posto. Guardate, questo si chiama The River che è un posto molto schiera, molto importante, la Singapore ha sempre e adesso è tornato un centro di luxury. Questo è il 2004 e questo è oggi. È incredibile. Che è successo? Ha successo che in 1975 Lee Kuan-hyu, il primo primo ministro della Singapore liberato dal controllo inglese, ha preso la decisione che questa città era assolutamente sporca, orenda, non poteva attirare l'interesso di qualche investimento che sia, non poteva anche satisfare la gente che vivevano in quattro etnie, quattro tribù veramente che sempre in conflitto l'uno con l'altra e non poteva continuare a vivere senza discipline. e ha detto Change Alley, Keep Singapore Clean and Pollution Free, che faceva, metteva a lunga strada segnalizzazione di traffico classico, su di che era scritto non sputare qua, non buttare la sigaretta qua, non mangiare il chewing gum e buttare il chewing gum qua, se no si paga 50 dollari, l'ho visto io, l'ho anche fotografato, ma non l'ho più trovato, 50 dollari singaporeni, che era la metà di un dollare americano, ma 25 dollari di questo tempo, 75, sono 250 di oggi, di potere di persone che non facevano tanti soldi. Ecco Li Kuan-Hyu, e direi che la forma di controllo che Li Kuan-Hyu ha imposto al suo pubblico era una democratura, vuol dire una dittatura, certamente, ma di che c'era un accordo, c'era un accordo, non era veramente fascismo, era prefascismo, no? Dittatura democratica, sembra un contraddizione in termini, però vabbè, vietato masticare il chewing gum, vedi, no chewing gum, adesso mille dollardi per il chewing gum, no kissing, perché no kissing? Perché alcuni, non è che lui è contro che la gente si abbracciano dalla strada, ma sono religioni lì che non possono tollerare questa cosa. Infatti, la cosa più bella è questa, è illegale camminare nudi in casa fuori del bagno. Come si sa, vi faccio vedere. è una cosa assolutamente horrenda. Non lì leggo tutto, perché evidentemente una quantità di cose, fustigazione, fustigazione, per atti vandalici, facevano portare una camicia che dice io sono un spogliatore di città perché mi hanno trovato a fare pipì qualche porto, non che ne so, però è una cosa assolutamente medievale, per dire, di controllo. Bene, Li Guan Yu, da nascita a Li Xianlong, il suo proprio figlio, che riprende il potere in 2004, infatti la differenza, ho fatto 2004, perché 2004, quando ci sono il torno, era la fine del regno del suo padre. Lui lo riprende, va a Wall Street, scusami, va a MIT e altri posti per prendere consiglio, come fare, come tracciare tutti i cittadini della città. Esattamente come abbiamo sentito dire da Michele Mezza, parlando della nuova tendenza della Cina e del paragone con Free Fall, di Black Mirror. Li Xianlong, scusate la mia pronunciazione, ha letteralmente costruito un'immagine di ciascuno dei personaggi della città, tracce digitali. Devo dire che, parlando del telefonino, il telefonino è, penso che Singapore è il posto dove sono più telefonini per persona, sono molto di più che le 7 milioni di abitanti di Singapore, sono 21, 21, 23 volte, diciamo, ciascuna. Condivisione di tutti i dati, big data, deep learning, deep learning è importante perché evidentemente l'intelligenza artificiale all'interno di un sistema impara che succede e accumula informazioni sempre a un modo più, diciamo, più intelligente, no? Sentiment analysis, anche io mi interesso molto a questo. E siamo in stato, tutti, sono in stato di confessione permanente, no? L'idea che non abbiamo bisogno di confessore. Questo è un esempio di tutti i punti che si possono seguire dentro una città, no? Lei sa certamente bene che questi sono tutti. Si possono seguire la gente nel loro taxi, evidentemente anche il taxi, dove sono, che comprano. Tutto questo è la cosa che noi dammo, questa grande quantità di data che diamo al sistema, agli algoritmi, e questo è un esempio di questo, che dà una cosa che io lo chiamo il santo elettronico. Code Halos è una delle varie compagnie che considerano il nostro essere fisico come essere bagnato di informazione che ne fa un'aura del santo. Ricordatevi che l'aura del santo medievale è la rappresentazione visuale del potere tattile interattivo che il santo ha con, no? Come un cane canta un potere molto forte, un'aura di paura o di, diciamo, di affezione. Adesso la nostra aura è veramente e anche circondata. Il professore ha parlato del fatto che si interessa su Twitter solo il contenuto ma non la persona. È vero in questo caso ma in tanti casi adesso la persona interessa fortemente il mercato e tanto è vero che ciascuno di voi con il vostro telefonino ha un indirizzo riperribile istantaneamente e connessabile con tutte le cose che si possono sapere su di voi a partire dalla fotografia non mi sbaglio a partire dal riconoscimento facciale. Telefono con il riconoscimento facciale e il tuo conto bancario. Halos è l'intelligenza sulla persona. Che abbiamo? andiamo verso questo andiamo verso il rovesciamento del pubblico e del privato il vostro privato il mio privato il privato e dei nostri ragazzi diviene pubblico perché è pubblicato sui social media e questo mondo esterno che sta decidendo con gli algoritmi le cose per noi sta penetrando noi. C'è un rovesciamento letteralmente tra il privato e il pubblico ma questo epocale abbiamo parlato del rinascimento prima era l'inverso allora era il pubblico tornava individuale e l'individualità era la cosa privacy che chiamo adesso è andata e veramente abbiamo una situazione che ha questa forza civilizzazionale dobbiamo confrontare questo in certo modo abbiamo un incongio digitale che ha un più potere su di voi che quello su di tutti noi che quello di Freud Freud ha scoperto l'incongio che è una cosa fenomenale perché infatti è vero che ci sono cose inconscienti che emergono in atti reali evidentemente però per Freud si trattava dei genitori di papà e mamà e come i ragazzi intorno permetteva di fare una psicanalisi a partire di una certa configurazione di famiglia che dava evidenza di alcune tendenze che facevamo noi nella vita quotidiana oggi i big data il algoritmo l'intelligenza artificiale è capace di farvi vedere farvi vivere una vita prevista come abbiamo sentito con predictive analysis la forza di questo è abbastanza più forte che quella del concetto tradizionale questo è una cosa che da pensare questo è il modo proposito a Singapore di essere certo che tu non esci del tuo bagno senza il tuo capotto perché i musulmani non vogliono vedere le persone nudi evidentemente e quei musulmani sono molto potenti i cinesi non se ne fregano però il problema è come riconsigliare culture che sono estreme e sensitive ha avuto un successo evidentemente su questo i big data sono nei social media ma anche i sensori e telecamere hanno telecamere così invece di avere solo una circolare alcuni posti ci sono le gare e altre cose le stazioni hanno un sistema dove una camera sta puntando assolutamente su tutta l'area secondo la possibilità di registrare tutto questo sorveglianza permanente anche in residenza verdetto istantaneo esecuzione immediata della pena non c'è tempo per discutere no ma non l'ho veramente fatto l'evidenza è qua tu paghi tanto e basta però ordine pulizia salute benessere garantito armonia sociale infatti la gente non sono discontento di questo allora c'è da parte la democratura del padre e adesso c'è una datacrazia del figlio e che è una cosa interessante sul piano è un laboratorio per noi allora l'ha creato non vi faccio vedere infatti non so se sono connesso ma c'è un video di propaganda per dire perché noi siamo così bravi no? Singapore sarà un luogo in cui in media Infocom consente una migliore qualità di vita per il nostro popolo attraverso la connettività di classe mondiale conto uniti e locali convincenti e tecnologie per rendere ogni giorno vive più agevole e più conveniente no è un'idea reale voglio veramente farlo non sono contro questo nessuno lo è però il problema è che la sorveglianza adesso allora che era fino a penso tre anni fa era reversibile nel senso che i dati contenuti dal governo e le azioni del governo erano disponibili alla gente adesso non lo è più allora noi vediamo già rovesciare la relazione simmetrica tra il potere e quelli che sono che sono sorvegliati diciamo no io ho messo qua brave new world o grande fratello perché la cosa è veramente sta arrivando a questo punto però abbiamo grazie a dio Marshall McLuhan che non spiega perché questa era l'immagine far vedere l'ha detto in 67 McLuhan era il mio professore sono sempre a citarlo ma ha ragione scusate il dispositivo di informazioni elettrici 1967 i dispositivi di informazioni elettrici sono strumenti per la tirannia e la sorveglianza universale dal grembo materno alla tomba nasce così un grave dilemma tra il nostro dirittore privacy e la necessità della comunità di sapere le idee tradizionali legate ai pensieri e azioni private sono minacciate dai modelli di tecnologia meccanica che grazie all'elettricità permette il recupero istantaneo delle informazioni grandi fascicoli zeppi di notizie e pettegolezzi che non perdonano non c'è redenzione nessuna cancellazione di errore di gioventù incredibile di aver previsto questo abbiamo già raggiunto oggi siamo fare esattamente questo abbiamo già raggiunto il momento in cui è necessario il controllo e la capacità di gestione che solo la conoscenza dei media e dei loro effetti complessivi sulla vita di ciascuno permette di esercitare questa è la nostra tasca che dobbiamo fare condizione digitale l'elettricità torna intelligente salta dal fisico al fisico del luce calore energia al cognitivo l'elettricità si fa cognitiva per questo io mi interessa molto di più di parlare dell'elettricità che è la base di tutte le cose che siamo a fare mi è piaciuto molto sapere che il nostro cervello funziona a 20 watt per ora immagino non lo so però è un cosa rassicurante però no l'idea è questo che l'elettricità sarebbe la base di tutto e che ha tutte le sue metamorfosi adesso mi sono chiesto la domanda se il quantum era ancora dipendente dell'elettricità e solo un fisico può rispondermi realmente perché noi andiamo verso il quantum quantum computing quantum vita e quantum tutto è certo che andiamo di là perché ha una buona ragione di andare però non so se il quantum dipende ancora della relazione elettronica non lo so traduzione di tutto un ambiente caratterizzato di grandi principi guidi connettività interattività iperstatualità istantaneità e ben oltre nel ciberspazio un nuovo ambiente cognitivo memoria di tutto per tutti no? e meno male perché chi da voi ricorda il numero di telefono del compagno? ok questo è un piccolo esempio un altro il ragazzo il giovane tassista di Roma non sa dove né com'è il Coliseo perché ha l'aso sul suo navigatore qual è una cosa che veramente siamo a delegare le nostre funzioni cognitive a sistemi che le prendono che le mettono in ordine e che lo restituiscono al modo loro non nostro allora algoritmi strutturanti nuove forme di intelligenza incredibile per uno che si interessa e mi interessa veramente anche penso che noi tutti abbiamo interesse a questo ma l'intelligenza è qualcosa da studiare da se stesso che succede? l'invenzione di Google è page ranking page ranking e dare una terza dimensione agli assi di conoscenza che è c'è un'indicazione e una cosa indicata ok vabbè l'abbiamo questo ma quanti persone ne usano? ah questo è importante se tante persone usano questa indicazione allora abbiamo tre assi di valutazione e di pertinenza questo è un modello di cambiamento di intelligenza big data in big data non c'è niente non c'è niente è la prima storia il momento della storia dentro di che noi dipendiamo interamente della domanda e non della preesistenza delle risposte perché di data non c'è niente prima che tu hai fatto una domanda allora che fino a questo momento c'era sempre o nella testa di qualcuno a chi tu parlavi o un vestigio di qualche sia o un libro di là o un sonno di qua esisteva prima ma adesso no allora questo crea una dissociazione dentro di che l'educazione l'università tutti questi devono portare assolutamente sulla domanda e non più sulla risposta ma questo è un'altra cosa intelligenza artificiale una volta che tu la metti io l'avevo prima prima mi interessava a studiare la differenza tra expert system e le teorie del tempo 25 anni fa dell'intelligenza artificiale infatti erano sempre strumenti isolati no e tu poteva fare domande e alcune erano molto brillanti una volta che i sistemi si mettono insieme che abbiamo un concerto mondiale di intelligenza artificiale allora comincia ad essere molto più pertinente il suo lavoro infatti il lavoro della gente che sono al centro di ricerca nucleare al CERN hanno un sistema di intelligenza assistita dalla tecnologia che mette insieme una quantità fenomenale di persone io ho inventato l'intelligenza collettiva per rispondere a Pierre Lévy che aveva parlato dell'intelligenza collettiva sì la collettività esiste l'intelligenza collettiva è un'emergenza che esce di una situazione sul tempo invece l'intelligenza collettiva è per esempio l'intelligenza dei piattaforme c'è un'intelligenza di interconnezione della gente per arrivare a alcuni risultati che è assolutamente stupenda è un algoritmo evidentemente è una quantità di algoritmi però abbiamo queste varie forme la cosa da sapere e questo è una cosa semplice da vedere abitiamo tre spazi abitiamo il fisico abitiamo il mentale e abitiamo la rete e sono tre spazi incrociati ma veramente diversi l'uno dell'altro e dobbiamo noi siamo capaci di gestire il spazio fisico senza problema senza educazione viene letteralmente da ogni infanzia siamo educati a gestire bene il nostro spazio mentale e ne fanno un decor un contenuto infatti tutte le cose che succede ma ancora non esiste e l'abbiamo già esovaccato non esiste ancora una visione di come gestire lo spazio virtuale lo spazio digitale chiamateli come che vuoi questo spazio digitale è descritto da Salvatore Iaconesi bellissimo siamo in un terzo spazio digitale più inclusivo in cui le informazioni non sono solo attaccate a luoghi spazi corpi e oggetti ma si ricombinano rimixano ricontestualizzano creando geografie sempre nuove di volta in volta emozionali linguistiche semantiche relazionali o relative a tanti pattern ricorrenti che si possono intravedere nella loro immersione dagli stati di dati informazioni e saperi correlabili tra spazi tempi e reti sociali differenti questa è una visione questa visione che ha fatto vedere con Halos in certo modo ma l'idea è veramente questo noi abbiamo non possiamo più essere innocenti avevo detto prima siamo non solo corpi umani siamo corpi con protesi ma anche con protesi siamo corpi con protesi e con questa ora che ci circonda allora distopia utopia più si sa tu di te meno tu esisti diceva McClung l'incocione digitale tutto che si sa di te che tu non sai big data il nuovo grande inquisitore questa volta non deve torturarti basta semplicemente studiare il tuo contenuto e questo è il futuro no minority report sui minori con il predictive analytics la possibilità di predere sulle cinque prossimi anni come l'abbiamo visto possiamo avere una situazione di che una brutta persona della polizia dice del bambino è lui che lo farà è lui che lo farà a rischio autonomia la datacrazia prende potere sulle nostre autonomia memoria ne ho parlato se il se svuotasi e va pubblicarsi sulla rete e reputazione noi torniamo nella cultura della vergogna la vergogna essendo la responsabilità verso l'altro non verso sé la colpevolezza è la responsabilità verso sé una volta che tu prendi potere sul linguaggio e che tu metti il linguaggio dentro di te tu divieni direttore di un destino e questo destino può succedere o fallire succedere grazie a te o grazie a circostanze fallire grazie a te ma sì tu lo fa fallire tu ti senti male benché nessuno sai di che si tratta oggi non è più il caso nella trasparenza generalizzata abbiamo una situazione dentro di che la vergogna torna e prende il posto di questa colpevolezza da che Freud voleva anche sbarassar noi trasparenza è di che Panama Papers crescita della trasparenza da Wikileaks Edward Snowden Swiss Leaks e Vatican Leaks tutto questo è la trasparenza in corso e questa trasparenza con l'affare Weinstein diviene un fatto un fatto sociale diciamo vuol dire che la tua reputazione diviene il tuo capitale più prezioso Singapore finisco su questo Singapore come modello futuro della città e della società la direzione degli algoritmi è la datacrazia la sicurezza è spinta dal terrorismo il terrorismo potrebbe calmarsi adesso che si finisce un po' il regno di al-Baghdadi e i suoi sbiri però continuerà di essere una spinta di sempre più sorveglianza l'obbligo di gestire meglio l'ambiente a tutti i livelli la spinta tecnologica il mercato che non ho detto però ha detto certamente il professor Asetti e ha ragione lui assolutamente dovrebbero azotare la città europea e la datacrazia ma la domanda è avranno la scelta perché la datacrazia crea un problema di implosione dei tempi e delle culture irritazione sui confronti culturali e sociali che sono quelli che abbiamo visto adesso un esempio dell'effetto della rete sul pensiero tribale è che la tribù non hanno più bisogno di essere al stesso posto nel passato tutte le tribù per avere potere dovevano essere riunite al stesso posto adesso queste tribù possono essere scatenate su tutta la terra crea evidentemente il terrorismo inconscio digitale incontrollabile fascismo elettronico controllo fisico e mentale è vero che è possibile di immaginare un ritorno al fascismo e io ho sempre pensato che dobbiamo essere coscienti di questa possibilità benché la nuova forma è un po' un personaggio ridicolo che è Donald Trump trasparenza e simmetria governi governativi governati questa è una delle condizioni che dobbiamo gestire tra le poche tempo che abbiamo ancora per gestire questo dobbiamo trovare un contratto sociale che è un contratto di mutuale rispetto questo è un political correctness transculturalismo la cultura del sharing peer networks e cosiddetta però la cosa da ricordare e finisco su questa immagine è che il consiglio di Vatican II non ha capito la vera trasformazione in corso come il consiglio di Trento non aveva capito la trasformazione in corso che ha dato diciamo come conseguenza duecentove anni di guerra di religioni il problema è che quando si cambia il rapporto tra il linguaggio e il corpo cambia le condizioni politiche e sociali di condivisione e di convivibilità adesso abbiamo perso il potere sul linguaggio che avevamo imparato leggendo e scrivendo prendendo letteralmente il potere sul linguaggio adesso il linguaggio attraverso questo schermo sta riprendendo il potere su di noi abbiamo una seconda serie di guerra della religione questa volta globale e dobbiamo superare una situazione di grande pericolo evidentemente avendo personaggi con Trump e Kim Jong-un assolutamente però il modo di capire è di capire che questa trasformazione è a questo punto irreversibile non si tratta più di dire se è una distopia o un'utopia si può solo dire è una condizione dobbiamo farci faccia come stiamo a discutere oggi e vedere come si può come si può finire io avevo avevo scritto qualcosa che non ho ritrovato ritrovato qua sì che la datacrazia la natura della datacrazia è che gli algoritmi prendendo sempre più potere su il potere decisionale che è fondamentale per l'uomo prendono questo potere potevano arrivare all'eliminazione del politico scusatemi assessore di questo l'eliminazione del politico che vuol dire l'eliminazione di una persona che prende le vere decisioni come la regina d'Inglaterra non prende mai le vere decisioni dell'Inglaterra è un personaggio figurativo e i nostri i nostri personaggi sono già figurativi quei personaggi della politica italiana figura infatti di un baletto abbastanza comico ogni tanto ma sono personaggi da chi le decisioni finalmente hanno non arrangiano generalmente non arrangiano niente ma hanno anche un potere delettere diciamo come dice il professore mi è piaciuto enormemente l'idea io preferisco molto di avere qualche algoritmo che decide prima che avere due cretini che stanno promettendoci di mandarsi la prossima bomba nucleare è veramente questo e direi il mondo il mondo è fatto di due tipi di persone ci sono chi sono i pigri e la grande maggiorità da chi sono io certamente e ci sono quelli che hanno un seta fenomenale di potere bene come si tratta di potere è che adesso il potere è dentro la macchina e non più dell'uomo anche il potere mentale non è più i nostri personaggi di potere vanno a delegare sempre di più cose del loro potere decisionale alle macchine è un po' una provocazione che vi lascia a pensare possiamo possiamo forse uscire dalla situazione un po' tesa che stiamo a vivere grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti